Juventus, è possibile che Elkan chieda ad Allegri di convertire i due anni di contratto nella giusta piega vedi letture il futuro di Massimiliano Allegri alla Juventus non è ancora definito. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, dopo il match contro L Udinese e la fine campionato, è in programma una chiacchierata con il club e, soprattutto, con John Elkan, numero 1-1 Exor, azionista di maggioranza del club, che potrebbe chiedergli la disponibilità a convertire i restanti due anni contratto in un bacino corposo, corrispondente più o meno alla metà necessario. Tuttavia, questo discorso è impossibile senza un cenno di apertura di Allegri.